beh ci siamo allora vorrò sparare con due glock sempre modello 17 una accuratizzata molto e l'altra classica normale standard per sentire a mano la differenza però su una sagoma che abbiamo già visto vada ad eseguire quella classica la tengo sulla mano destra quella accuratizzata la terrosse la mano sinistra la glock standard la curatizzata diversi colpi saranno andati fuori però il truccato c'è e si vede alla prossima